Tutto sono scelto Alt-Guardi Ciò tu vedi che non ho preso anche Alt-Guardi Ok, ma ho credito tu Adesso vogliamo in linea che Alt-Guardi ha avuto un nuovo Pokémon A vedere che oggi Alt-Guardi Alt-Guardi Tartal Pagli Pagli Boli Pagli 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info M'am ta, che l'alato, ma la trènere, energia, te io vengono, che sono più.. Ok, lezzatni pokémoni, vittrazione, tu mam, ok, fly pikachu viener, dracosol dviener, rinmonta, polkocon, orbito viener, a teraz zvečka, to è promo dragonite, cinderace zvečka, potom tu mam, genesis, pikachu, promokarta, za cien level x, celebi, amazing rare, a vittrazione, čo tu prima, to je tento espoň, promokarta, takže, takto, si to nahážim na kubku, pikachu, genesis, cinderace, dragonite, orbito, double koko, ja to tožia mimochodom večer, tak asi si to niektorí momenti zajtra, tak ja sa s vami lúčim, tých normálnych pokémonov vám ukážem inokedy, a lúčim sa s vami, čau, čau. Hvala. 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 Hvala.